Matteo Zampagort è il rappresentante d'istituto della Scuola per Geometri Tito Acerbo di Pescara. Oggi avete organizzato questa assemblea d'istituto per sensibilizzare comunque un problema tra i giovani, il problema della droga. Sì, questa è un'idea che è partita da noi rappresentanti ed è una cosa secondo me molto importante in quanto il problema droga sta dilagando, soprattutto in Italia che è la seconda nazione in Europa per il consumo di droghe e soprattutto anche qui in Abruzzo ci sono state l'anno scorso morti di overdose per 60 persone ed è un dato veramente impressionante. Quindi questa è una cosa che a noi rappresentanti ma a noi studenti ci ha colpito molto e abbiamo deciso di fare qualcosa. Quindi abbiamo deciso di organizzare questa assemblea per sensibilizzare ma soprattutto informare gli studenti in quanto penso che l'informazione sia l'unico mezzo di differenzazione di massa per generare nell'individuo un pensiero critico e essere consapevole di ciò che lo circonda. Quindi a differenza delle solite assemblee sulla prevenzione non abbiamo fatto venire dei dottori o degli specialisti bensì ex testimonianze, quindi persone vittime di dipendenza che hanno raccontato la loro esperienza, hanno raccontato come si vive stando dentro al tunnel o che è all'interno del famoso tunnel a livello metaforico come si parla e appunto queste persone hanno avuto una presa diretta sugli studenti in quanto non hanno parlato per sentito dire o per quello che hanno studiato, hanno raccontato la loro esperienza. Bisogna far capire ai ragazzi che sono problemi che li circondano e non sono utopie, sono cose che sono una realtà e quindi bisogna informarli, bisogna farli capire che i tossici non sono persone che vanno viste come una persona che è pericolosa o una persona che è da emarginare. Sì, potrebbe diventare pericolosa, però appunto per questo bisogna evitarlo e appunto per questo bisogna conoscere e vivere questa realtà.